Ragazzi, buonasera, eccoci qua, di nuovo in pesca, molto vento, ragazzi, stasera siamo alla fine del Marigliano, un bel maretto, stiamo provando ad insediare qualche spicola, ragazzi, andiamo a fare delle condizioni ottime, a dopo. Ragazzi, dopo un'ora di pesca, niente da fare, niente, non signora niente, adesso ho deciso di spostarmi e andare al mio solito posto a Minturro, da sopra la scogliera, e ah, ragazzi, monto e ci riprovo di là, a dopo. Ragazzi, eccoci qua, giunti al posto, questa bella scogliera, qui nel mezzo al mare, Minturno, qua, ragazzi, ho preso tante orate, sono sempre divertito su questo posto, è un bello sport di pesca, interessante, ma c'è pure le prove per i salvataggi e i bagnini. Ragazzi, ah, ragazzi, qua è l'orata, invece, basta proprio per l'orata. Ecco, forse c'è una mangiata. Ragazzi, ragazzi, vi aggiorno dopo. Ragazzi, prima mangiata, una bella murmura, bella proprio, con 400 grammi, ragazzi. Ragazzi, ragazzi, questo posto è sfortunato, a me mi porta fortuna, dai, ci provo ancora, a dopo, a tra poco. Ragazzi, ce ne andiamo, ha cominciato a piovere, abbiamo avuto un'altra toccata, ma niente da fare, solo questa mormora, eccola qua, bella mormora. Ragazzi, se vi è piaciuto il video, lasciate un like, iscrivetevi al canale, sempre al top, un bacio forte.